benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video assaggio io direi di iniziare subito ma tu inizia col botto, togliamoci il dente tronchi kinder l'abbiamo cercato ovunque non l'abbiamo trovato da nessuna parte l'ho trovato l'aria detto anche se sono passati mesi si rinnovasse ad aprire a voi o kinder sembra un po i kinderini erano in programma quando hanno uscito di vaniglia ma dentro insieme si senti la cama del kinder ma è troppa crema sono due creme perché è bianca e marrone buona un po mi ricorda il sapore del kinder buono buono vero buono più buono del tronchi originale a me il tronchi non piace a me il tronchi è duplo buonissimo buono ti dà proprio è molto dolce perché la crema dentro è tanta però è più crema che la struttura estera del tronchi infatti ma è buonissimo ottimo prendetelo provate un bell'otto pure per me ci sta meritato con il salato però direi di giocare in casa quindi giochiamo in casa questa partita perché poi comunque dopo abbiamo un altro dolce salati preziosi chips pollo gusto pollo questa è la novità che io ho preso sempre prodotti che noi non abbiamo mai provato adesso faccio la semplice mi piace tu mi senti molto molto mi guardo wow mmm Sono buonissime Buone Pollo pure il sapore, cioè il peritiero Buona, buonissima Sono molto delicate Però senti proprio quell'aroma del pollo Vero L'ultimo dolce di questo video Una super novità Una super novità Girella Girella Di nocciola Ricoperta con cacao Io non ho mai amato le girelle Io nell'ultimo periodo Ma perchè con i vari video ne ho provate Quella lì che era portata di bosco Era buona? Mh A me non piace molto la girella Non era possibile Come io mi ricordo Mi viuscola ragazzi Ma io forse non l'ho mai provata la girella Perchè non mi ha mai attirata Wow Che ricopertura di nocciola Ce ne sono Due, tre Sei, giusto tre da testa Non ne mangiarne uno in più Non ne mangiare uno in più 24 anni Prima girella provata 24 anni Prima girella provata Io non trovo differenza Io non l'ho mai provata Non so fare il paragone Anche perchè hanno fatto una ricopertura sopra con queste nocciole Ma Dentro non ci sta Non ci sta niente Quindi è solo fuori Se fosse stata il serramento di una ricopertura fatta bene con le nocciole Allora la Siri dice Mamma mia che prodotto Ma Io non trovo sinceramente differenza con le altre Forse la trovo ancora più secca rispetto a prima No A me non è piaciuto Tre No dai quattro Quattro Cioè è mangiabile Ci facciamo tranquillamente colazione della mattina Devi mangiare dieci Però Dettagli Vai Ultimo Paura No Le is Però tipo Giappone Non lo so che cos'è Gusto bacon No Gusto Cossine di baiale Come si serve Mamma mia Tantissimo Questo va più croccante Per me Non so che mi ricorda Che schifo O pesce magari Mamma mia che schifo Ma Mara non so che mi ricorda Mi ha ravinato la bocca Non mi rimane Comunque con queste patatine che ho quest'anno ci è andata male Finnazione è salvata una forse questa qua mi pare No proprio Sono Cioè sono Sono proprio quelle patatine che Te le mangi più di una Ti le sono tutte Tutta la sera In bocca Anche se ti lavi i denti Se si fa proprio sullo No Quindi Nulla Abbiamo Concluso Proprio Abbiamo fatto due su due Abbiamo chiuso con un pareggio Quindi Nulla Speriamo che questo video vi sia piaciuto E ci vediamo nel prossimo video Ciao